I due misteri principali della fede, li professiamo ed esprimiamo anche in altra maniera? Professiamo ed esprimiamo i due misteri principali della fede anche col segno della croce. Che perciò è il segno del cristiano. Il credo è l'espressione verbale esplicita e chiara dei misteri principali della nostra fede. Il segno di croce esprime i due misteri principali del credo, in forma compendiosa, servendosi di parole e di gesti. Segno è una cosa sensibile, parola, gesto, oggetto, che serve a indicarne un'altra. La parola indica e fa conoscere all'esterno il pensiero nascosto della mente. Il fumo, indicando il fuoco, ne è il segno e lo fa conoscere. La bandiera è il segno che indica la patria. Il segno serve anche a distinguere chi lo porta da chi ne è privo. La camicia rossa era il segno distintivo dei soldati di Garibaldi. Ogni partito politico ha il suo segno distintivo. Ogni congregazione religiosa una divisa speciale. Il segno distintivo del cristiano è il segno della croce. Come si fa il segno della croce? Il segno della croce si fa portando la mano destra alla fronte e dicendo in nome del Padre. Poi al petto dicendo e del figliuolo. Quindi alla spalla sinistra e alla destra dicendo e dello Spirito Santo. E si termina con le parole così sia. Per fare bene il segno di croce occorre 1. Pronunciare bene le parole pensando devotamente con fede e amore a quello che si dice 2. Fare un vero segno di croce ampio, completo non un segno impercettibile affettato, affrettato 3. Far corrispondere le parole al segno come è indicato nella risposta del Catechismo. Prima della lettura dell'Evangelo durante la Santa Messa si usa fare un segno di croce più piccolo tracciando una crocetta sulla fronte sulle labbra e sul petto con il polpastrello del pollice destro e con la palma della mano distesa è rivolta verso la faccia il triplice segno di croce indica che il Vangelo deve essere creduto con la mente predicato con la parola amato col cuore e con la parola